Buongiorno, sono Massimo Bazzanti di Banca Mediolano, responsabile dell'agenzia. Siamo molto felici e contenti di partecipare a questa terza edizione di Cortona in Love. Partecipiamo con uno spettacolo al Teatro Signorelli con una presenza di circa 400-450 persone. Lo spirito è bellissimo, abbiamo tanto entusiasmo, siamo molto contenti di avere in collaborazione con il comune di Cortona e con l'ASCOM per far sì che possiamo nel territorio avere più clienti possibili. Abbiamo 14 family banker presenti nell'agenzia e 3.000 clienti che già ci hanno affidato i loro risparmi. Questi sono obiettivi importanti per il territorio per far sì che più frequentemente possibile cerchiamo di elevare la visibilità del comune di Cortona.